Eccoci, proseguiamo Allora, i redattori di oggi siamo io, Simone Ornaghi sono tecnico commerciale per i prodotti Loctite per quanto riguarda la meccanica e Teroson per quanto riguarda la carrozzeria per il nord-est e con me ho il mio collega che invito a presentarsi Grazie Simone Buonasera a tutti e vi ringrazio per la partecipazione al webinar spero d'altronde che i consigli che ci apprestiamo a darvi siano utili per il vostro lavoro Io sono Lorenzo Lopedotti molti mi conoscete, ci siamo incontrati presso le vostre officine mi occupo di supporto tecnico, non di commerciale e gestisco un po' tutta l'Italia e l'isola di Malta lavoro nel settore carrozzeria per quanto riguarda il brand Teroson e seguo invece per quanto riguarda le officine meccaniche il brand Loctite sempre come supporto tecnico Passo la parola a Simone, grazie Grazie Lorenzo, grazie Allora, adesso vediamo un attimo l'agenda gli argomenti che tratteremo oggi partiremo con un'introduzione sull'evoluzione delle plastiche all'interno delle autovetture qualche nozione tecnica passeremo poi alla gamma Teroson che si può utilizzare per riparare le parti in plastica e poi andremo più nel dettaglio per capire come riparare un paraurti danneggiato con i nostri prodotti alla fine parleremo anche di un prodotto molto innovativo un brevetto un ibrido Loctite 4070 vi ricordo che potrete richiedere in omaggio un campione del prodotto 4070 alla fine della presentazione parte finale ricordo verrà interrotta la registrazione ci saranno le vostre domande a cui Lorenzo ci darà la risposta partiamo con questa slide questa slide è una slide introduttiva che riassume in tre macro categorie le applicazioni che riusciamo a fare con i nostri prodotti con la gamma Teroson partiamo con il ripristino ad esempio delle sigillature di primo impianto invito nuovamente a visionare il webinar tenuto qualche mese fa tramite i nostri canali social su YouTube in questo caso parliamo del ripristino di parti in metallo e in plastica mediante prodotti chimici di diversa natura nel caso delle sigillature il nostro prodotto principale il Teroson MS 9320 SF SF ricordo che sta per super fast che andremo ad utilizzare spruzzato con la pistola Powerline 2 o Multipress al centro vediamo l'applicazione di sostituzione in questo caso quando ci sono danni strutturali all'autovettura abbiamo bisogno di andare a sostituire completamente ex novo la parte ammalorata e in questo caso ci vengono in aiuto dei prodotti chimici come le epossidiche epossidiche che ci permettono di incollare materiali compositi di diversa natura infine sulla destra dello schermo abbiamo la parte riparare la parte riparare in questo caso coinvolge piccole riparazioni a parti ammalorate ed è proprio di quello di cui parleremo oggi e il prodotto principe in questo caso è il Teroson più 9225 SF ricordo SF sta per super fast molto veloce in questa slide vediamo un pochino quella che è l'evoluzione delle parti in plastica all'interno dell'autovettura abbiamo preso come... scusami se ti interrompo mi sa che la presentazione non sta girando perché io ho il video fermo sulla prima slide come riparare un parautti del leggerato abbiamo un attimo un problema tecnico vediamo di risolverlo dalla regia ok proseguiamo pure se tutti vediamo questa slide siamo sulla slide dell'evoluzione delle parti in plastica all'interno dell'autovettura dicevo che abbiamo preso come case study la Volkswagen Beetle se vediamo l'immagine sulla sinistra quella del 1938 in questo caso le parti in plastica erano molto piccole e prevaleva la parte in metallo nella parte centrale vediamo come l'evoluzione ha portato all'incremento di parti in plastica dei paraurti esterni alla carrozzeria le minigonne e gli specchietti laterali questo è stato possibile anche grazie all'avvento del parabrezza incollato perché il parabrezza incollato ricordiamo che aumenta la rigidità strutturale dell'autovettura fino a un 40% permettendo ai costruttori di utilizzare quindi materiali meno duri come potrebbe essere in questo caso la plastica inoltre l'utilizzo di parti in plastica permette di essere più sostenibili riducendo il peso dell'autovettura e quindi i consumi di carburante ancora sempre per quanto riguarda la sostenibilità molto importante in questo momento ricordiamo che la plastica presente sulle automobili è per la maggior parte riciclata infine nell'ultima parte della slide vediamo il Beetle nei giorni nostri dove alle parti in plastica esterne si sono aggiunte parti tecnologiche come ad esempio i sensori quindi qualche esempio pratico delle parti in plastica che troviamo all'interno e all'esterno dell'automobile possono essere per la maggior parte paraurti anteriore e posteriore i parafanghi, gli spoiler, i portelloni e altre parti all'interno ovviamente abbiamo tutti quelli che sono le alette, le clip e le porte in montanti le plastiche maggiormente utilizzate sono il polipropilene, l'ABS, GRP o altre plastiche di uso comune sull'autovettura ecco una domanda molto importante perché riparare? abbiamo quattro principali motivi per la quale la riparazione è la strada principale da percorrere sicuramente è più economica della sostituzione quando andiamo a riparare paraurti o parti in plastica di autovetture di fascia medio alta riduciamo gli sprechi quindi evitiamo di inserire nuova plastica all'interno del circolo e riutilizzando quella che è già presente sull'autovettura non abbiamo tempi di attesa per i pezzi di ricambio cosa molto importante nel momento attuale dato che le catene di fornitura mondiale hanno subito degli shock dovuti a casistiche come il Covid, la guerra in Ucraina e soprattutto siamo in grado tramite prodotti Teroson di mantenere lo stesso aspetto del pezzo originale che andiamo a riparare ovviamente non possiamo riparare tutto la prima cosa che dobbiamo fare è mantenere l'autovettura in sicurezza non possiamo andare a toccare parti sensibili che pregiudicherebbero il corretto funzionamento dell'autovettura stessa quindi dobbiamo sempre sicuramente riferirci alle specifiche del produttore e alla legislazione del paese in cui ci troviamo le cose che si possono fare ovviamente sono i paraurti, le alette, i parafanghi, gli spoiler per quanto riguarda le cose da non fare ci sono fari, griglie del radiatore che sono sconsigliati e comunque è sempre meglio seguire le specifiche del produttore tutti i contenitori di liquidi o anche in questo caso è proprio vietato la riparazione di serbatoi di carburante adesso passo la parola a Lorenzo che ci illustrerà nel dettaglio la parte tecnica, la gamma Teroson e l'applicazione di riparazione del paraurti prego Lorenzo grazie Simone allora in questa slide vediamo più o meno tutti gli attrezzi e prodotti che Teroson consiglia per la riparazione delle plastiche in primis il prodotto per eccellenza il 9225 disponibile in tre formati a secondo della temperatura e del tempo che si ha a disposizione per la riparazione useremo un prodotto al posto dell'altro poi c'è la pistola naturalmente per il bicomponente il prodotto il 9225 è un poliuretano tecnologia poliuretano 2k rapporto di miscellazione 1 a 1 quindi è importante che la pistola abbia il pistone con rapporto di miscellazione 1 a 1 cioè praticamente i due postincini che spingono i componenti A e i componenti B devono essere perfettamente uguali poi altro prodotto importantissimo per quanto riguarda la riparazione delle plastiche è il primer primer in bomboletta spray il Terocal 150 è un primer allora sulla plastica va detto che qualsiasi operazione si faccia abbiamo necessità di applicare un promotore di adesione un primer quindi voi carrozzieri sapete benissimo che quando andate in verniciatura sulla plastica ci mettete un primer per evitare lo sfogliamento della vernice per quanto riguarda la riparazione della plastica è importantissimo l'applicazione del promotore di adesione del primer un prodotto a base solvente dopodiché andiamo avanti il 9225 è un adesivo quindi quando si applica un adesivo i substrati devono essere perfettamente decontaminati con che cosa? VR10 distillato di petrolio molto volatile asciuga molto ma molto velocemente consiglio quando si pulisce una superficie per accelerare l'essiccamento l'appassimento del prodotto io sconsiglio sempre l'utilizzo del compressore di aria compressa perché nella maggior parte dei compressori c'è sempre una condensa c'è sempre acqua quindi in questo caso andremo a contaminare nuovamente dopo la pulizia la superficie poi abbiamo bisogno levigatrice c'è in figura si vede il supporto per la riparazione vera e propria che può essere una rete in plastica o una rete in nylon o una rete in fibra di vetro l'importante però è che le maglie siano molto ma molto strette in modo da creare un supporto valido alla riparazione dopodiché vabbè protettivi diciamo la protezione individuale occhiali e guanti ok parliamo entriamo nel merito e parliamo del prodotto vi dicevo il prodotto il 9225 è disponibile in tre formati abbiamo il 9225 standard che è il più lento per quei climi molto caldi oppure per riparazione molto ampie di parti interi o la ricostruzione di parti ampie di paraurti o grigli o altro poi abbiamo il 9225 che in questo caso è sulla slide SF sta per super fast diciamo che è una via di mezzo tra il più lento e il più rapido e dopodiché abbiamo l'ultra fast con una caratteristica in più micro emission è a bassissima diciamo isocianati cioè ha pochissimi isocianati quindi non fa male alla salute prego la regia di tornare indietro di una slide così finiamo di parlare del super fast ok è un prodotto bicomponente di colore grigio scuro o nero a seconda del prodotto il pot life è di circa due minuti vi ricordo che il pot life è il tempo di vita del prodotto all'interno del beccuccio ha un'eccellente carteggiabilità si carteggia con una 150 non con una grana più grossa altrimenti andremmo a strapparlo sulle parti del paraurti naturalmente deve essere sovraverniciabile perché una buona riparazione poi ha bisogno di essere sovraverniciata e sulle cartucce vedete che c'è un palino giallo è un prodotto approvato dai produttori quindi quel pallino sta per OEM Original Equipment Manufacturing utilizzato in questo caso proprio l'SF per interventi di riparazione di fori inferiori a 5 cm o graffi cripe fino a 7 cm di lunghezza naturalmente se si affretta possiamo accelerare il tutto con una lampada avendo cura di non superare i 60 gradi sulla superficie del paraurti e del prodotto quindi questa slide l'abbiamo vista Teroson 9225 standard il più lento poi abbiamo il Teroson 9225 super fast la via di mezzo e il micro emission a bassa emissione di isocianati ok vediamo le fasi di riparazione di un paraurti cioè ciò che noi consigliamo a voi operatori per una corretta e ottima riparazione delle plastiche allora prima di tutto la preparazione della superficie cosa molto ma molto importante tutte le superfici che dobbiamo riparare hanno bisogno di una buona preparazione quindi eliminare tutti gli strati di vernice di primer di stucchi e così via cioè portare la plastica a nudo poi parliamo di applicazioni di primer abbiamo detto in precedenza che una buona riparazione sulla plastica ha sempre necessità dell'applicazione del primer primer che in questo caso funge da aggrappante cioè è un promotore di adessione quindi ogni cosa che noi andiamo a fare sulla plastica ha bisogno del promotore di adessione in questo caso il Terocal 150 riparazione del danno dalla parte interna applichiamo la retina che creerà la base di supporto per la buona riparazione e dopodiché andiamo avanti e dopodiché dalla parte esterna quindi a vista facciamo il riempimento carteggiamo e la finitura della superficie ok ora ci vediamo un filmato durante il filmato ci saranno degli step dove spiegherò alcune cose che vedremo un filmato benissimo allora guardate cosa sta facendo la mia collega abbiamo una crepa cosa molto importante quando abbiamo a che fare con delle cripe quindi dettagli che siano periferici o centrali una cosa importante è fare con un trapano una punta da sé o da otto millimetri affogare la crepa all'inizio e alla fine in questo caso abbiamo una zona centrale quindi ci sono due fuori una all'inizio una alla fine in caso di crepa periferica è importante affogare la crepa dove finisce questo lo si fa perché abbiamo visto la nostra esperienza ci insegna che anche dopo la riparazione se effettivamente non affoghiamo le crepe con il passare del tempo le stesse continueranno a camminare quindi andando ad annullare completamente ciò che è la riparazione quindi ricordatevi affogare la crepa all'inizio e alla fine con una punta di trapano da sé o da 8 mm è indifferente benissimo dopodiché passiamo alla preparazione vera e propria della superficie quindi dopo aver decontaminato con un cleaner questo caso gr 10 che un distillato di petrolio non rilascia residui andiamo a eliminare completamente tutti gli strati di vernice stucco quant'altro creiamo una una smussatura su tutto il perimetro del danno a cosa serve questa smussatura più o meno la si fa a intorno ai 45 gradi per due motivi innanzitutto evitiamo le pareti a 90 gradi le parete 90 gradi del danno specialmente sui paraurti molto spessi possono creare dei problemi di rimarcatura dopo la riparazione facendo la smussatura vuoi invece creiamo una culla il letto dalla riparazione vera e propria in questo caso andiamo aumentare di molto la superficie di contatto tra il prodotto e il paraurti la plastica del paraurti evitiamo ricordo evitiamo le pareti av in questo caso Grazie a tutti. Benissimo, questa devo riconoscere un po' che è la fase che tutti quanti trascurano, l'applicazione del Prime, ahimè, purtroppo la maggior parte dei carrozzieri, degli artigiani bypassano questa fase perché ritengono che non sia utile l'applicazione del Prime. Allora, tenete conto che una riparazione fatta senza l'utilizzo di un primer, siccome il 9225 è un adesivo poliuretanico, diciamo che il contatto, il legame tra superficie e prodotto non sarà del 100% ma sarà meno di un 50%. Ciò che significa che la riparazione è molto debole, andrà a essere veramente veramente debole. Poi con il primo impatto, oppure con le vibrazioni stesse del paraurti, vi ricordo che parliamo di plastica, il tutto potrà comunque lesionarsi. Quindi il primer è un prodotto molto ma molto importante. Allora, altre persone invece credono che il primer si metta solo sulle plastiche difficili. Plastiche difficili sono polietilene e polipropilene. È vero, polipropilene e polietilene non si incollano con nessun tipo di materiale, neanche con il 9225. In quel caso abbiamo bisogno di altri prodotti, non sto qui a elencarli, e di altri primer. Però, ripeto, questo è un primer che funge come promotore di adesione su una riparazione della plastica con il 9225, non per le polielefini e le plastiche difficili. Quindi su ogni riparazione va utilizzato questo primer. Ecco qua. Molti si chiedono, ma cosa fa l'operatrice in questa fase? Fa lo spurgo. Allora, tutti i prodotti di componenti, come in questo caso il 9225, hanno il componente A e il componente B. Quindi, in questo caso, uno è giallo e l'altro è nero. Entrambi i componenti tendono a fuoriuscire, specie quando fa caldo, in maniera molto libera dalla cartuccia. Cosa succede? La viscosità dei due prodotti è differente. Quindi, uscirà prima un prodotto alla pressione del grilletto, uscirà prima il prodotto più fluido e dopodiché il prodotto più viscoso, andandosi a miscelare in maniera errata all'interno del beccuccio, anche per i primi 5-6 centimetri. Per evitare tutto questo, prima di agganciare il beccuccio sulla cartuccia, con qualche piccolo colpetto al grilletto della pistola, faccio uscire i due prodotti A e B. Solo quando entrambi usciranno nella stessa maniera, andrò a montare il beccuccio, avendo cura poi, in seguito, di scartare almeno 2 centimetri, i primi 2 centimetri di fuoriuscita del prodotto, anche dal beccuccio. In questo modo sono sicurissimo di avere un'ottima miscelazione dei due prodotti, e quindi una resa migliore, la resa ottimale. Altro consiglio importante. Vedete? Allora, il prodotto è stato applicato su tutta la zona periferica del danno. Molte persone ci mettono prima la benda, il supporto, e poi lo ricoprono di prodotto. È una situazione sbagliata questa, perché la garza, la benda, il supporto, con il passare del tempo tenderà a staccarsi dal paraurti, perché effettivamente c'è poco prodotto. Quindi noi consigliamo di mettere il prodotto sotto sui paraurti, mettere il supporto, in questo caso la benda, pungere la benda, in modo che il prodotto da sotto, attraversa le maglie, esce a galla e si lega in maniera incredibile con la benda e con i paraurti. Un sandwich proprio. In questo caso avremo una struttura omogenea, compatta. Altra cosa importante che mi sento di dirvi è la tendenza dell'operatore molto spesso a ridimensionare la zona malorata. Cioè se io ho un danno quanto la dimensione di un 2 euro, una monetina da 2 euro, allora tutto sommato in carrozzeria vedo che molto spesso si usa il phon per riscaldare la plastica, per migliorare un po' il danno, per diminuire l'entità del danno. Una cosa che io sconsiglio è proprio questo, di applicare calore sulla plastica, perché una plastica riscaldata perderà l'elasticità e con conseguenza poi che al minimo urto tenderà a spaccarsi nuovamente. È meglio eliminare completamente la zona malorata, anche allargandosi di parecchio, di parecchi centimetri, per poi andare a ricostruire il tutto con l'ausilio della benda e del prodotto. Questo secondo me è la cosa migliore, perché andare a creare danno su danno è una cosa sbagliatissima che ci porterà a un'erata applicazione, un'erata riparazione della plastica. Ecco qua, siamo in dirittura d'arrivo, dopo aver polimerizzato completamente il prodotto all'interno del paraurti, passo all'esterno e vado a effettuare il riempimento, un riempimento molto importante, perché sarà fatto sulla parte visiva del paraurti, non lì dietro. E quindi devo fare un buon riempimento, perché un cattivo riempimento mi porta alla formazione di bolle. Poi ci chiamano i clienti, sai Lorenzo il tuo prodotto crea delle bolle, la superficie non è omogenea, ci sono delle inestetismi, compagnia bella. Allora, guardate, l'operatrice in questo caso porta la punta del beccuccio all'interno affogata nel prodotto e quindi continua l'estrusione, sempre con la punta del beccuccio affogata all'interno del prodotto. In questo caso evitiamo l'inclusione di aria, evitiamo che quando andremo a polimerizzare con lampade oppure a temperatura ambiente, evitiamo la formazione di bolle che poi durante la carteggiatura ci vengono a galla. Bolle che poi dobbiamo riempire con uno stucco, con lo stesso prodotto, insomma ci portano una perdita di tempo inutile. Quindi ricordatevi, beccuccio sempre affogato. Grazie a tutti i nostri spettatori ecco qua. Stucco, l'abbiamo detto, per migliorare notevolmente la superficie, in modo che poi dopo la verniciatura, dopo il fondo e dopo la verniciatura del paraurti, eviteremo di guardare, di vedere delle imprecisioni. Quindi lo stucco è molto importante. Vedo spesso in carrozzeria utilizzare sui paraurti in plastica lo stucco per il metallo. Allora, guardate che lo stucco per il metallo ha un coefficiente di dilatazione molto diverso dallo stucco per plastica. Cosa succede? Che in estate, alle alte temperature, o in inverno, quando fa molto freddo, lo stucco per metallo si dilata in una data maniera, la plastica in un'altra maniera. Quindi c'è un tiraggio, si concentra un tiraggio sulla riparazione, tiraggio che può portare poi a rimarcature o addirittura delle cripe sulla riparazione stessa, anche senza nessun tipo di urto, nessun urto. Quindi è importantissimo utilizzare uno stucco specifico per le plastiche, anche perché lo stucco per plastica è molto più elastico rispetto allo stucco per metallo, proprio per evitare questo. Diciamo che ripristiniamo lo stato iniziale della plastica. iniziale della plastica. ecco qua, finito il filmato, terminato. Una cosa importante, un'ultima cosa, vi ricordo, la carteggiatura, sempre con una 150, sempre con una 150 e dobbiamo avere cura, quando facciamo riempimento, di lasciare un po' di prodotto in eccesso, in modo che evitiamo poi di scendere sotto quota e di ripristinare il livello con altro prodotto, con tanto stucco. Quindi sempre prodotti in abbondanza, carteggiatura con una 150, mai con una carta più grezza, e dopodiché poi stucco e verniciatura. Lasciamo asciugare lo stucco secondo i tempi previsti dalla scheda tecnica del prodotto, l'importante è che si asciughi completamente lo stucco, e dopodiché il ciclo normale di verniciatura. Allora, seguendo tutte queste fasi, questa procedura, vi posso garantire che la riparazione non spaccherà più, che la riparazione non rimarcherà una volta verniciato, e che avremo ripristinato effettivamente la resistenza del paraurti stesso. Lo portiamo al discorso iniziale. Ok, passo la parola a Simone, che vi farà un breve assunto dei prodotti che abbiamo visto, con l'aggiunta di un prodotto di cui vi parlerà Simone. Grazie Lorenzo, grazie per la tua spiegazione molto interessante e dettagliata, ci hai dato tanti consigli per andare a riparare al meglio le plastiche. Ecco, questa è la slide riassuntiva dei prodotti che ci ha presentato bene Lorenzo nel dettaglio. Vediamo il Teroson P9225 in tutti i suoi formati, quindi quello normale, SF, Superfast, UFME, Ultrafast, Microemission, il Teroson 150, il Primer per plastiche, il Teroson UP250, lo stucco. In aggiunta, vedete, due prodotti di natura chimica differente, il Loctite 3090, un prodotto di base cianoacrilato, ideale per l'incollaggio di tutti i substrati, fatta eccezione per il vetro, e sotto il prodotto di cui vi parlavo all'inizio, un prodotto ibrido, bicomponente, Loctite HY4070, composto per petà da cianoacrilato e metacrilato, un prodotto strutturale, molto rapido, anche qui adatto all'incollaggio di diversi substrati, sempre fatta eccezione per il vetro. Adesso andiamo a vedere un'applicazione molto interessante di questo prodotto, ovvero la riparazione di un cerchione danneggiato. Ricordo inoltre che questo prodotto può essere utilizzato anche per riparare piccole lesioni e graffi presenti sui paraurti. Credo che però l'applicazione del cerchio in lega vi lascerà molto soddisfatti e sorpresi. Prego la regia di far partire il video. Grazie a tutti. Prende un attimo la parola. Allora, con questo sistema evitiamo di utilizzare lo stucco al poliestere che mio nonno diceva dura da Natale a Santo Stefano su un cerchio. Evitiamo poi, come molti artigiani, molti di voi fanno, la sfumatura, lo sfinimento del prodotto ammalorato. Cioè andare lì a carteggiare, a eliminare tutto il graffio fino a trovare la zona sana, creando un assottigliamento dell'alluminio e anche un'equilibratura errata. Con questo prodotto facciamo il riempimento. Dopo 4-5 minuti è possibile carteggiare sempre con una 150, poi fondo, verniciatura e trasparente. Andiamo a ripristinare in brevissimo tempo, in maniera strutturale, un cerchio in alluminio, in acciaio, in lega e compagnie belle. Naturalmente non parliamo di riparare un danno strutturale perché una crepa strutturale su un cerchio sarebbe, a meno che non si salda il metallo, sarebbe impossibile, impensabile. Però tutti quegli sfrisi, tutte quelle zone ammalorate sul bordo esterno del cerchio è possibile ripararli. Tenete conto che questo prodotto può riempire i giochi fino a mezzo centimetro, magari in più mani. Quindi strutturale, quindi facciamo veramente una riparazione ad hoc sul cerchio. Vai Simone, ti cedo la parola. Grazie Lorenzo, grazie per la precisazione tecnica. Come detto all'inizio della presentazione, inquadrando il QR code che vedete in questa slide oppure cliccando nel link che comparirà in chat, compilando il modulo e inserendo i vostri dati potrete ricevere in omaggio un campione di Loctite HY4070 e provare a toccare con mano le performance di questo prodotto. inoltre aggiungo che potete richiedere tramite un altro link che verrà inserito dalla regia in chat una visita da un tecnico commerciale presso la vostra carrozzeria e il tecnico vi illustrerà la gamma prodotti, vi farà vedere le applicazioni Teroson e cercherà di risolvere le problematiche che manifesterete. vi invito a fare questo tipo di attività perché la vicinanza tra noi tecnici commerciali e voi utilizzatori finali ci permette di migliorare e di continuare a produrre prodotti sempre più innovativi e vicini alle vostre esigenze. Ecco adesso invito la regia a interrompere la registrazione questo è il momento dedicato a voi prego di porre le domande a Lorenzo che sono arrivate in chat.